bene amici carissimi bentornati ad una nuova catechesi biblica sull'antico testamento è un po di tempo che purtroppo non riusciamo a non siamo non sono riuscito a mandarla in onda a curarla e ci siamo fermati l'ultima volta alla storia drammatica di saulo che confina evidentemente con quella di dire davide che ne è l'immediato successore come spesso accade l'abbiamo già visto credo l'ho già accennato l'altra scorsa quando qualcuno spreca delle grazie grosse quanto una casa il signore le trasferisce a qualcun altro davide si rende indegno dell'elezione e al suo posto subentra davide ecco abbiamo proprio concluso passo alla slide precedente la puntata appunto precedente con abbiamo concluso la puntata precedente appunto vedendo la disobbedienza la riprovazione di saul da parte del signore ora si apre il capitolo saul e davide cioè c'è la lezione davide al capitolo sedicesimo e poi la triste storia della rivalità della gelosia fino all'odio di saul nei confronti di davide e la brutta fine che saul farà dopo aver commesso il gravissimo peccato di divinazione seguo un attimo leggo prima i paragrafi che poi andremo ad approfondire almeno in parte davide e golia subito dopo l'elezione di davide c'è la singolar tensone passo spettacolare molto noto dell'antico testamento e subito dopo comincia la gelosia di saul verso davide perché davide ha abbattuto il grande nemico di israele lui che era un fanciunno un ragazzo semplicemente con una fionda in mano era un problema abbastanza serio no e dalla gelosia poi si passa al vero e proprio odio quindi al tentativo di uccidere davide c'è l'episodio terrificante ecco il massacro dei sacerdoti di nord da parte di saul per odio a davide e la reazione di davide davide per due volte la possibilità di uccidere saul e non lo fa è una prefigurazione ecco a detta di alcuni commentatori specialmente di epoca patristica del comandamento dell'amore al nemico da parte di nostro signore gesù cristo alla possibilità di uccidere colui che ingiustamente senza nessun motivo lo diavolo perseguitava e non lo fa disperato davide a un certo punto va da una maga ad endor località e dove appunto viveva questa esperta di divinazione ma ci va camuffato per non farsi riconoscere per divinare l'anima di samuele cosa che come vedremo riesce e che segna diciamo così l'ultimo atto di una triste vita che poi drammaticamente finisce e anche qui la reazione di davide alla morte di saul o meglio a chi pensava di fargli un ieto all'annuncio portando le notizie della morte dicendogli che aveva contribuito a dargli il colpo di grazia vedremo che non avrà certamente la reazione che si aspettava da parte di re davide o poi abbiamo la lunga sezione dedicata al regno di davide davide ha regnato 40 anni in israele 7 in ebron e 33 su gerusalemme e quindi davide di giuda di israele ci sono i capitoli qui siamo già nel secondo libro di di samuele quindi il primo finisce con come abbiamo visto un attimo indietro è con la drammatica morte di saul il secondo comincia con la reazione di davide e poi con l'inizio del regno di davide re di giuda e di israele l'arca gerusalemme la profezia di natan e poi altro episodio molto importante l'adulterio e l'omicidio i castigli divini conseguenti a questo terribile peccato commesso da davide con bezabbea e la nascita di salomone tra i castigli divini c'era rivolta di assalonne figlio che si rivolta contro il padre le maledizioni di simei e anche qui la morte di assalonne grande nemico di davide e di nuovo riportano annuncio della morte e vedremo la reazione non proprio entusiasta anche perché assalonne oltre grande nemico era anche il figlio di davide poi un altro grande peccato di davide si mette a fare il censimento del suo popolo cosa che scatena proprio l'ira di dio e che lo mette alle strette gli fa scegliere tra tre castigli possibili come vedremo e dopodiché il secondo libro di samuele termina e comincia il primo libro dei re con l'elezione di salomone figlio di bezabea come suo successore e poi la morte di davide ecco questo è il percorso che ci aspetta non so se riusciremo a farlo un po difficile però io provo a provarci perdonatemi il giochino di parole e niente cominciamo adesso ad andare a vedere anzitutto passiamo cambiamo riquadro e passiamo al riquadro biblico che ci mostra il capitolo 16 noi seguiamo il test italiano della traduzione del 2008 della CEI chiaramente qui sulla destra c'è anche il 74 mentre sulla sinistra abbiamo come sempre la possibilità di dare un'occhiata anche al testo ebraico quando fosse necessario ora non leggo tutto quanto qui il signore dice a samuele questo lo leggiamo fino a quando piangerei su saul mentre io l'ho ripudiato perché non regni su israele ecco il verbo ripudiare attenzione proprio in ebraico ma ass che è proprio rigettare irreversibilmente riempito dal tuo corno e parti ti mando dagli esse il betlemita importante che sappiamo anche un pochino di nomi biblici che gli essere il padre di davide perché per esempio voi quando ci andiamo a sentire la profezia di isaia 11 che si legge anche nella liturgia è perché un passo molto bello germoglio spunterà dal tronco di esse un virgulto germoglierà dalle sue radici quella è una profezia che si riferisce al nostro signore gesù cristo ma il nostro signore gesù cristo è il germoglio che spunta dal tronco di esse e il virgulto dalle sue radici perché gli esse il padre di davide davide della tribù di giuda e come sappiamo e gesù apparteneva alla virtù di giuda molto interessante giù gesù questo pensiamolo sempre come spiega bene la lettera agli ebrei non apparteneva alla tribù dei sacerdoti che era la tribù di devi pur essendo lui il sommo sacerdote per antonomasia interessante ma la tribù dei re perché gesù è il re è il re dei re è il signore dei signori cioè il suo sacerdotio non apparteneva alla tribù dei sacerdoti perché il suo sacerdotio non è un sacerdotio umano spiega benissimo la lettera agli ebrei che il suo la linea sacerdotale da cui dice gesù è quella di melchisedec dice il signor al mio signore siete alla mia destra tu sei sacerdote per sempre al modo di melchisedec melchisedec è un personaggio l'abbiamo visto che compare in tre versetti del libro della genesi offre pane e vino viene dal cielo e scompare nel cielo da cui è venuto no sonaggio misterioso ecco prefigurazione del sacerdotio di cristo che non è un sacerdotio modellato sull'uomo ma è un sacerdotio appunto eterno divino universale che non poteva avere una linea umana come quello levitico e quindi si inserisce all'interno del popolo di israele dentro la tribù regale immaginate quanto è importante la festa di cristo re sotto questo punto di vista e anche quanto è importante tutto quanto tutta quanta la tematica oggi completamente messa nel dimenticatoio della regalità sociale di gesù cioè che cristo deve regnare dovunque quella bella canzoncina popolare che si canta nelle processioni noi vogliamo dio noi vogliamo dio che regni nelle scuole che regni nelle officine che regni nelle fabbriche regni dei politici regni nella nostra italia dappertutto è un canto popolare ma quello è un canto popolare ma dal intriso di una profonda teologia di grandi significati cristo si inserisce nella tribù regale è chiaro come ci dicono i vangeli bisogna parlare di queste cose perché davide è una delle più grandi prefigurazioni di nostro signore gesù cristo tant'è vero che gesù ha dovuto faticare per far comprendere che la sua regalità era diversa dalla legalità politica quindi lui non era il nuovo davide che restaura il regno di israele con la forza e con la violenza e che libera israele dalla tirania dei romani e restaura le glorie degli antichi fasti no sostituendo a a quei bambocci che c'erano lì che erano erode antipa prima e poi erode agrippa che sapete i romani conquistavano le terre avevano uno stile del tutto del tutto peculiare dopodiché basta che tu riconosci l'autorità di roma rispetti le leggi penali e paghi i tributi soprattutto dopodiché tu ti puoi tenere tutti quanti i tuoi usi e costumi no sappiamo dai vangeli che gli israeliti c'erano il sinedrio c'erano la religione e ti lascio pure il tuo gingillo che vuoi il re di israele te lo lascio tanto sta lì a fare il bamboccio appunto no quindi completamente esautorato non avendo romani riservava chiaramente i poteri supremi i poteri giudiziari il potere di vita e di morte questo che i farisei al tempo di gesù fanno di tutto per mandarlo da pilato perché loro non potevano non c'avevano ius vitae acnesis quello era un diritto che si riservavano i romani ecco quindi però gesù esce fuori da questa tradizione messianica perché siccome tutti gli ebrei sapevano che il messia sarebbe venuto dalla tribù di giuda si erano immaginati il messianismo appunto come una con una prospettiva di questo genere tanto è vero che tutto il vangelo di marco possiamo fare un po' un'introduzione un po' interdisciplinare questa sera però credo che forse sia utile così uno si orienta un po' tutto il vangelo di marco è costruito mi si passi il termine attorno al cosiddetto segreto messianico no quindi c'è è un'attenzione di gesù a mantenere il silenzio cioè vuole essere riconosciuto per quello che è no quindi per il messia però poi non vuole che questa cosa vada in giro disserò di non dirlo a nessuno raccomandò loro di non disserlo a nessuno raccomandò loro nel vangelo di marco questo è proprio una un ritornello continuo perché perché marco attenzione che marco è la penna di pietro il vangelo più breve ma anche quello più incisivo ed è pietro che riconosce per primo gesù come il messia e solo il centurione come figlio di dio è tutto quanto alla bellezza del del vangelo di marco no ma gesù non vuole che vada in giro perché non vuole assolutamente che le persone si mettano in testa appunto che lui adesso da un momento all'altro imbraccia le armi e e caccia i romani molto probabilmente per chi crede per chi conosce gli scritti di di maria voltorta per esempio questo era il sogno di giuda giuda rimase deluso dal giuda escariota da da gesù perché lui gli era andato dietro con il sogno messianico israelitico e quando vedeva gesù fare miracoli sognati ah questo pure i miracoli immagini che cosa combinerà e nonostante il fatto che gesù cercasse di smontarlo in continuazione degli guarda che non è come pensi lui dice ma sì sì adesso questo sta a dire così per fare un po' di scena ma tanto da un momento all'altro dovrà per forza dovrà per forza manifestare il suo potere e fare il grande messia no addirittura la sua denuncia come dire è la consegna di gesù ai suoi nemici era una provocazione allora hai deciso di non tirare fuori i tuoi poteri io non usarli per per regnare per farti valere mo ti faccio vedere io mo ti consegnano le mani dei nemici vediamo se almeno lì tu tirerai fuori i tuoi poteri oppure ti farai ammazzare tra l'altro anche chi non credesse a Maria Valtorta detto proprio tra noi una ipotesi di questo genere è altamente verosimile altamente verosimile ecco detto questo passiamo torniamo un attimo all'elezione di Davide e quindi di essere il padre di Davide scorro un pochino il testo così tanto si può cambio slide così lo possiamo vedere ecco scusate questi passaggi che purtroppo ecco sono necessari perché Telegram è un pochino artificioso però credo che sia utile allora Yes quindi si scusate Samuele si rega da Yes e ricordiamo le circostanze scorro velocemente così vai devi fare un sacrificio inviterai Yes eccetera eccetera dice com'è la tua venuta chiede Yes a Samuele pacifica si si è pacifica sono nudo per sacrificare al Signore santificate e poi venite con me santificare anche gli esseri suoi figli li invitavano al sacrificio quando furono entrati egli cioè Samuele vide Eliab e disse certo davanti al Signore sta il suo consacrato e qui c'è il primo passaggio molto edificante no sapete che noi certamente adesso ho presentato la storia di Davide e la teologia complessiva no poi è bello focalizzare i brani cerco di conservare questo stile in questi in questi tipi di di catechesi perché la Sacra Scrittura deve essere l'alimento fontale diciamo così della nostra spiritualità no ecco la risposta che il Signore dà a Samuele dinanzi al primo genito di Yes che era Eliab che era un bestione primo genito poi è emblematica ed è paradigmatica ed è anche universale Dio fa sempre così non guardare al suo aspetto né alla sua statura io l'ho scartato perché non conta quel che vede l'uomo infatti l'uomo guarda l'apparenza attenzione che in ebraico è l'uomo vede con gli occhi eh ah in in ebraico significa proprio occhio quindi l'uomo guarda a ciò che si vede a ciò che è visibile esteriormente il Signore guarda la levav al cuore il cuore è quello che non si vede no eh in greco è ancora più più bello no antropos opsetai eis prosopon prosopon è proprio pensate che prosopon in greco erano le maschere che si mettevano gli attori al teatro è proprio l'immagine dell'apparenza proprio quindi l'uomo guarda l'esteriore la persona così come all'esterno o del teos opsetai escardian il Signore guarda il futuro di di Orao il cuore ecco e questo è sempre universale e questo impariamo a farlo anche impariamo a farlo anche noi eh non fermarci mai alle apparenze noi non siamo capaci di vedere il cuore delle persone non possiamo vedere il cuore ma il cuore delle persone se siamo attenti traspare da una considerazione attenta di tanti particolari della persona è un discernimento che specialmente noi preti dobbiamo sempre imparare bene a fare quindi le opere Gesù cosa dice nel Vangelo per esempio la bocca parla dalla pienezza del cuore quindi come una persona parla è molto significativo e qui mi si permetta di fare sempre una 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 delle mie grandi crociate contro il turpiloquio a basso del turpiloquio siamo circondati da una montagna di fango che si vede in giro dovunque ma non si macchi mai la nostra bocca con espressioni cattive come dice San Paolo nessuna parola cattiva è scappiuta dalla vostra bocca ma piuttosto parole buone che possano giovare all'edificazione non ci siano volgarità e turpiloquio sulle labbra dei figli di Dio su quelle stesse labbra che vanno a ricevere il nostro Signore Gesù Cristo nella Santa Comunione non è possibile che una lingua su cui si posa l'ostia santa poi parli in maniera trivial sboccacciata volgare bene questo perché uno dei criteri per conoscere il cuore dell'uomo lo dice sull'Evangelo e la bocca parla dell'avvenenza dell'uomo è quello che dice poi anche quello che fa e poi c'è un'altra c'è un altro aspetto importante di cui Gesù parla nel Vangelo la lucerna del corpo è l'occhio se l'occhio è luce tutto il corpo sarà nella luce ma se l'occhio è tenebroso quindi attenzione che per conoscere un pochino il cuore delle persone bisogna farsi attenti allo sguardo che hanno alla limpidezza dell'occhio e alla qualità della conversazione alla abbezza delle cose che dicono alla sensatezza delle cose che dicono alla profondità delle cose che dicono all'astenersi appunto dal parlare sporco possibilmente anche dal parlare vano eccetera insomma gli esse gli passano davanti tutti quanti i figli il primo il secondo il terzo il quarto il quinto il sesto il settimo e il signore dice qui non c'è il mio eletto e a un certo punto samuel rimane male dice ma samuel chiesa gli esse nel versetto 11 sono qui tutti giovani gli esse non ce l'aveva manco portato davide ma veramente rimane il più piccolo che ora sta a pascolare il gregge dice ma ah allora sta un altro mandalo subito a prendere perché non ci metteremo a tavola la linea che gli sei venuto qui lo mandò a chiamare e lo fece e lo fece venire era fulbo con begli occhi vedete begli occhi quindi begli occhi bel cuore ci siamo appena detti no la lucerna del corpo e l'occhio è bello di aspetto disse il signore alzati e ungilo è lui kum vedete il messia no l'ebraico no kum meshachehu no in ebraico è meshiach quindi perché vuol dire l'unto no perché il verbo questo verbo qui lo evidenzio che è mashach significa ungere e quindi samuele prese il corno dell'olio lo unse e lo spirito del signore da quel momento irruppe su davide da quel giorno in poi bellissima anche questa questa espressione ruach adonai e il david e il verbo è salach cioè che è proprio si affrettò come dire si 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 diresse si indirizzò c'è anche una una insinuazione che cambia cambia si sposta no prima stava su Saul e poi sterza e passa a a Davide no e il verbo greco della settanta accentua e fallo mai no fallo significa proprio scendere cadere no quindi si posa su Davide da quel giorno in poi e che succede lo spirito si posa su Davide perché ha lasciato Saul e subito dopo nel versetto 14 dice la stessa espressione ruach adonai lo spirito del signore era partito proprio il verbo sur è volgersi altrove se n'era andato attenzione da Saul e quindi ruach ra vedete c'è ruach adonai e c'è lo spirito del male ruach ra qui viene tradotto un cattivo spirito ma è proprio etimologicamente lo spirito del male lo spirito malvagio attenzione venuto dal signore attenzione qui agli ebraismi non è che il signore manda lo spirito cattivo allora però nella sagra scrittura questo è un particolare a cui dobbiamo farci attenti specialmente nell'antico testamento c'è il principio teologico che è vero cioè che Dio è la causa prima di tutte le cose ma nel linguaggio biblico non viene ordinariamente distinto tra la causa prima e la causa seconda l'abbiamo già visto però è passato un po' di tempo quando abbiamo commentato i passaggi del libro dell'esodo per esempio relativi all'indurimento del cuore del faraone no? non è che Dio indurisce il cuore del faraone con una volontà causativa d'accordo ma a causa dei peccati della durezza del cuore del faraone Dio lascia che il cuore si indurisca e permette che sia così per manifestare in maniera sempre più incalzante dirompente la sua gloria anche qui non è che il signore come dire con volontà intenzionale manda uno spirito cattivo nel cuore di Saul no ma siccome Saul ha peccato gravissimamente quindi è stato ripudiato dal signore la casa rimane vuota e quindi per permissione divina evidentemente ma per permissione divina conseguenziale a quello che ha combinato Saul arriva lo spirito cattivo e qui c'è anche la sciocchezza insomma dei servi di Saul poi che dice guarda con il cattivo spirito di turba dice comandi il signore nostro i servi che gli stanno intorno e cercheremo un uomo abile a suonare la cetra dice quando il cattivo spirito di Dio sarà su di te quindi metterà mano alla cetra e ti sentirei meglio attenzione che questo spirito cattivo comincia a tormentare Saul probabilmente era non soltanto una possessione ma proprio una forma ossessiva perché vedremo poi più avanti se leggiamo qualche particolare che è proprio mosso da questo spirito malvagio che in certi momenti si proprio scaglia contro Davide per ucciderlo quindi attenzione che la storia di Saul amici cari è drammatica oggi è la conversione di San Paolo io dicevo durante la messa di questa sera che la conversione di San Paolo è un annuncio di per sé meraviglioso a tutti a tutti noi cioè è l'annuncio che una persona può passare da una condizione come dire molto negativa come era quella anche se in buona fede San Paolo faceva il persecutore dei cristiani convinto di dare gloria a Yahweh quindi aveva questa attenuante soggettiva però di fatto era un persecutore come lui stesso si riconosce si appella era un violento non è che ci andava leggero e diventa poi il grande apostolo mite pacifico è sempre abbastanza come dire perentorio e ruento nella predicazione ma non nei fatti no? però purtroppo dicevo anche durante l'Omelia ahimè succede pure al contrario non ci sono soltanto i cattivi che diventano buoni questa è la nostra grande speranza ma disgraziatissimamente ci sono i buoni che diventano cattivi e quando uno cade fa un capitombolo proprio qua so proprio guai so proprio guai io non voglio spaventare nessuno non voglio venire angoscia a nessuno raccomando sempre cioè di non fare quando uno dice una cosa perché a volte qualche cosa uno le deve dire per spiegare un concetto no? non cominciare subito a turbarsi e applicare troppo frettolosamente a se stessi alcune considerazioni no? diciamo ah mi ho fatto questo quindi sono stato ripudiato buono tranquillo quando si tratta di cose grosse come in questo caso il senso di queste pagine bibliche è che le conseguenze sono drammatiche e sfuggono dal controllo in ogni caso quale sarebbe questo suonatore di cetra che mandano a chiamare guarda un po' chi è che suonava la cetra che ha scritto un sacco di salmi era Davide no? allora uno di domessi gli dice a Iese guarda che ho visto dice a Saul ho visto il figlio di Iese il betremmita sa suonare è forte e coraggioso abbia nelle armi saggio di parole di bell'aspetto e il signore è con lui e Saul ed è così che che Saul conosce Davide mandò messaggeri ai dire a Iese mandami tuo figlio Davide quello che sta con il greggio quindi Iese prende un asino pane otre di vino e capretto quindi omaggi da dare al re e manda Davide a Saul e all'inizio Saul si affeziona a Davide o meglio Saul Davide si affeziona a Saul e Saul apprezza perché quando lo spirito di Dio era su Saul Davide prende in mano la cedra e suonava e Saul si calmava e si sentiva meglio e lo spirito cattivo si ritirava da lui quindi capite no? è il senso che si cela dietro queste parole Saul Davide è il letto del Signore quella cedra che lui suonava era quella cedra che avrebbe dato musica ai salmi cioè i salmi scritti da Davide e sono tantissimi sono la maggioranza dei salmi che anche noi adesso recitiamo pensate al ruolo che ha avuto questo uomo autore sacro pochi pensano quando pensano a Davide se lo dimenticano andate a prendere la Bibbia di Gerusalemme vedete il sottotitolo dei salmi di Davide di Davide di Davide al maestro del coro di Davide di Davide di Davide ha scritto un sacco di salmi i salmi cantati ancora meglio oggi non si usa più la cedra ma si usa il mitico che si usava purtroppo il canto gregoriano o o l'organo che sono le che sono cose che fanno scacciare che fanno allontanare di molto i diavoli il diavolo odia il canto gregoriano e l'organo infatti oggi non si usano più quasi da nessuna parte perché altrimenti si sentiva meglio lo spirito cattivo si radunava su di lui e arriviamo così al capitolo 17 l'annosa battaglia guerra di Israele contro i filistei a un certo punto vedo un momento in cui i filistei si radunano e a un certo punto esce dall'accampamento dei filistei uno sfidante chiamato Golia di GATT era alto 6 cubiti adesso se non mi ricordo male vado a fare un attimo un controllo rapidissimo su internet non vorrei dire sciocchezze perché un cubito equivaleva a centimetri 44 cm 44 cm io mi ricordavo 50 cm sono andato a verificare perché insomma vorrei evitare di dire cose 6 cubiti vuol dire se fosse 50 cm sarebbe 3 metri bisogna bisogna toglierci 6 cm 6 x 6 36 cm quindi era alto 2 metri e 60 cm grandicello noi abbiamo anche il giocatore di pallacanestro che si avvicina e qualcuno è alto 2 metri e 20 2 metri e 30 insomma uno è alto 2 metri e 60 insomma un bel armadio aveva in testo un emmo di bronzo era rivestito di una corazza a piastre il cui peso era di 5.000 sigli di bronzo anche qui il ciclo di bronzo se non ricordo male allora il ciclo aveva un peso variabile allora dove caspita sta ecco un ciclo equivaleva a 8,40 grammi 9 grammi quindi 5.000 sigli di bronzo attenzione sono 50.000 grammi 50.000 grammi significa 50 chili una corazza da 50 chili scusate se ho fatto queste cose però è bene cioè 50 chili è cioè è un sacco di cemento armato insomma cioè è abbastanza consistente portasse 50 chili addosso quindi immaginiamo la prestanza di questo di quest'uomo portava le gambe schinieri di bronzo ancora oltre all'armatura e un giavellotto di bronzo tra le spalle giavellotto di bronzo il bronzo pesa eh io amici cari posso dire che c'ho c'ho quel bellissimo stensorio che è una fusione in bronzo mariano per fare la benedizione eucaristica con quello è meglio impegnare perché pesa 13 chili assicuro che portirà su 13 chili quindi immaginate un giavellotto di bronzo con un giavellotto si tiene con una mano sola non credo che sia un peso molto molto distante dai 13 chili forse pure di più quindi questo era capace che ti portasse 20 chili cioè non è che ti porti un bilanciere da 20 chili in mano che faccia la palestra un giavellotto doveva essere scagliato era un'arma da da punta per uccidere le persone poi l'asta della sua lancia era come un cilindro di tessitori la punta dell'asta pesava ancora 600 chili di ferro il siglo sono 50 grammi no sono 5 grammi 5 per 600 insomma è anche un bel peso anche della punta della lancia no e lancia la sfida scegliete un uomo che scenda contro di me se sarà capace di combattere eccetera eccetera il filisteo diceva oggi ho sfidato le schiere di israele datevi un uomo e combatteremo insieme allora Saul e tutto israele attoniti dalla paura la paura temere molto no gli aree ebraico proprio temere grande paura e Davide che cosa fa parentesi eccetera eccetera si alza gli israeliti fuggono hanno paura e questi terrorizzati questo uomo avanza per sfidare israele eccetera eccetera e Davide a un certo punto chiede ma chi è mai questo filisteo incirconciso per fidare le schiere del Dio vivente ah così eccetera eccetera no quindi insomma alla fine come sappiamo Davide dice a Saul versetto 32 salta un pochino di passaggi se no veramente diventa troppo nessuno si perde ad animo a caso di costruire il tuo servo andrà a combattere contro questo filisteo Saul gli dice guarda che tu non ci vuoi andare contro questo tu sei un ragazzo e questo non vuoi darmi fin dalla sua adolescenza questo ti massacra questo ti stecca cioè ti ti rovina ma Davide disse a Saul il tuo servo pascolava il greggio di suo padre veniva dal volto un leone o un orso a portar via una pecola dal greggio e lo inseguivo lo abbattevo e strappavo la pecola dalla sua bocca quindi il tuo servo ha abbattuto il leone e l'orso e questo filisteo non circonciso farà la stessa fine di quelli attenzione perché ha sfidato le schiere del Dio vivente chi heref heref ma archot elohim haim e alla fine Saul dice va bene vai gli mettono l'armatura ma Davide con l'armatura non riusciva a camminare e se la toglie che fa prende in mano il bastone ci prende sti cinque ciottoli di sci dal torrente e li pose la sua sacca da postura nella bilancia nella bisaccia scusate prende la fionda e sta vicino al filisteo il filisteo scrutava Davide e quando lo vide bene ne ebbe disprezzo proprio in ebraico è dal verbo bazà che significa proprio disprezzare proprio profondamente e il filisteo dice a Davide sono io forse un cane perché tu venghi a me con un bastone e quel filisteo maledisse Davide in nome dei suoi dei minaccia Davide fatti avanti e darò le tue carni agli uccelli del cielo e le bestie selvatiche e qui c'è la risposta di Davide anche qui grande esempio anche per tutti noi tu vieni a me con la spada e con la lancia e con l'asta io vengo a tenere il nome del Signore e degli eserciti Dio delle schiere di Israele che tu hai sfidato in questo stesso giorno il Signore ti farà cadere nelle mie mani io ti abbatterò e ti staccherò la testa e getterò i cadaveri dell'esercito filisteo i uccelli del cielo e le bestie selvatiche e tutta la terra saprà che vi è un Dio in Israele e questo è un modo con cui sempre nella saga scrittura si presentano le grandi opere di Dio le abbiamo già visto allora strumento inadeguato un ragazzino di 16 anni forse gracilino disarmato praticamente con una fionda contro un bestione di quasi 3 metri armato in quel modo e che aveva già fatti fuori non si sa quanti che aveva terrorizzato tutte quante le schiere di Israele lui non ci ha paura perché va da lui nel nome del Signore a me sentendo queste cose mi viene in mente facciamo un po' di come dire di interdisciplinarietà una veglia di preghiera non troppo tempo fa l'abbiamo fatto quando stavamo leggendo durante le veglie di preghiere la Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi dove a un certo punto il diavolo confessa durante un esorcismo che una delle cose che l'hanno fatto perché non è andato più al manicomio che l'hanno fatto proprio in bestiaire riguardante la Madonna è che lei non ha avuto mai paura quando stiamo con il Signore quando il Signore è con noi quando operiamo nel nome del Signore quando agiamo nel nome del Signore non ci fa poro a niente nessuno non temiamo se trema la terra se crollano i monti nel fondo del mare questo è un salmo adesso non mi ricordo a memoria se era scritto Davide lo ritengo così a pelle altamente altamente probabile anche perché l'ha scritto quasi tutti quindi sarebbe proprio un caso fortuito che questo fosse uno dei pochi che non ha scritto lui non temiamo se trema la terra se crollano i monti nel fondo del mare e si va in minoranza assoluta questa è una bellissima notizia amici miei 12 apostoli contro il mondo intero Davide contro Golia oggi sapete bene che quello che vediamo intorno a noi non è molto allegro né a livello politico sociale nazionale internazionale e nemmeno a livello spesso e volentieri ecclesiale sembra che i buoni tra virgolette siano pochi e del tutto inadeguati e sprovvisti rispetto alla portata dei problemi e all'organizzazione terrificante da parte degli avversari qui parlo specialmente a livello dei grandi centri nevralgici di potere reale che governa nel mondo chi è che può competere con la loro potenza come dire anzi anzitutto economica oltre che di tutto il resto e quindi dobbiamo disperare e quindi siamo spacciati e quindi siamo morti no no è proprio perché siamo così pochi e così mi si perdone un po' armata branca leone disorganizzati a volte anche nemmeno troppo troppo uniti tra di loro sono i buoni perché si frastagliano e si frammentano in tante meteore però è attraverso questa nullità che il Signore farà cadere i nuovi Golia sappiamo che va a finire la storia con la fionda lancia il sasso uccide Golia gli balza sopra e con la sua stessa spada gli taglia la testa prende la testa del Filisteo alla volta di Gerusalemme e Davide fa un'entrata trionfale a Gerusalemme vabbè con la testa del nemico non si può come dire lasciare questo episodio di cui abbiamo già accolto almeno in questo che ho accennato uno dei tratti salienti senza ricordare che questo episodio è stato oggi anche il 25 del mese per chi ci crede non vorrei adesso soltare a nessuno insomma però è stato dato anche oggi il messaggio pubblico della Madonna non commentato ma è stato dato e tra l'altro molto molto significativo anche molto molto in tema con quello che stiamo dicendo adesso e questi cinque sassi con cui è stato abbattuto il gigante Golia io questo mi sento di di doverlo dire chiaramente chi non ci crede tappi le orecchie e magari fandi avanti per due o tre minuti se sente la differita il podcast o o il video la Madonna ha indicato i cinque sassi necessari da avere per combattere contro i Golia organizzatissimi e potentissimi del nostro tempo dietro cui c'è però il Golia con la G maiuscola o meglio quando si parla di questo Golia bisogna sempre usare le minuscole però per farci capire perché dietro Golia c'è il diavolo e il diavolo come si vince? cosa ha detto Gesù nel Vangelo? col digiuno e con la preghiera quindi quali sono i cinque sassi che la Madonna chiede di usare contro il demonio preghiera e digiuno preghiera articolata anzitutto noi abbiamo siamo figli di Dio la forma più alta di preghiera e più importante sono i sacramenti e quindi la santa messa e la santa comunione quotidiane dice ma è obbligatorio? no non è obbligatorio è obbligatorio andare a messa la domenica ma se vuoi avere gli attrezzi per combattere il Golia scatenato di questi tempi ci vuole la comunione quotidiana e la confessione minimo mensile meglio se settimanale pochi sanno che c'è un messaggio della Madonna a chi vuole fare un cammino intenso spirituale raccomando la confessione ogni otto giorni come tutti i santi hanno sempre raccomandato poi la terza cosa è la preghiera la preghiera il rosario e il rosario intero tutti i giorni il rosario intero sapete che una volta il rosario attenzione anche questo c'è molta attinenza con Davide perché una volta il rosario era chiamato il salterio degli ignoranti voi sapete che i salmi sono 150 ma il rosario tradizionale prevede la recita di 150 di Maria se uno legge il salterio del Beato Aruno della Rupa vedrà proprio come nella tradizione dice va bene le persone ignoranti che non conoscono il latino non sanno recitare i salmi sostituiscono la recita dei salmi che religiosi consagrati in una settimana oggi chi lo sa forse al 1500 anche anche meno una settimana attenzione sono reciti al Breviarium Romanum del 62 ma adesso purtroppo con la liturgia delle ore i 150 salmi si recitano in 4 settimane quindi sono ancora più diluiti nel corso del tempo sostituito dai 150 in area 150 Ave Maria e quindi abbiamo un rosario e poi c'è il digiuno il digiuno il digiuno il digiuno il digiuno due volte a settimana bisogna farlo e poi un altro aspetto che è l'aspetto della meditazione quindi dell'essere nutriti almeno un quarto d'ora al giorno dedicare dedicarsi al nutrimento della propria anima con una buona meditazione sulla Bibbia o su qualche altra cosa con l'ascolto eccetera eccetera niente di nuovo sotto il sole no? come si vincono i demoni più cattivi dice Gesù con la preghiera e col digiuno il digiuno è una cosa che un tasto su cui molti non ci sentono siccome noi oggi stiamo in tempi che altro che Saul e che Golia il diavolo è ampiamente scatenato nel senso che sta senza catene e quindi va in giro a fare scorribbande dovunque ti dice ma se mi metto a fare queste cose qui devo pregare almeno tre ore al giorno sì devi pregare almeno tre ore al giorno circa vuol dire che se vuoi attrezzarti per combattere contro i Golia di oggi tu devi diventare in quest'ottica la tua giornata dura 21 ore perché tre ore sono dedicate non sono le tue non ne ha la disponibilità quindi nelle altre 21 mangi bevi dormi lavori tutto il resto che devi fare ma quelle tre ore sono sacri nel capitolo seguente abbiamo ancora un pochino sì possiamo accennare il capitolo 18 comincia la gelosia di Davide che cosa succede succede che scusate la gelosia di Saul verso Davide succede che Saul torna a Gerusalemme innanzitutto stringe alleanza con il figlio di Saul che è Gionata la storia tra Gionata e Davide è un esempio biblico di una grande e santa amicizia ce ne sono tante anche Gesù ha avuta una grande e santa amicizia quella tra lui è Lanzaro l'amicizia è una delle cose più belle che possa esistere nel mondo chi trova un amico trova un tesoro ricordate sempre che è un proverbio della sacra stitura e lo troveranno quelli che temono il Signore trovare un amico con la A maiuscola come un amico vero è difficile amicicare un amico che rimane fedele un amico che non delude un amico che non tradisce una persona con cui si può parlare a cuore aperto che tu sai che ci puoi parlare di qualunque cosa se i matrimoni funzionassero amici cari perché chi è sposato dovrebbe avere il migliore amico una relazione di coppia che funziona bene non funziona bene soltanto in certe dimensioni che capite ma funziona bene se tu a chi ti sta vicino ci puoi parlare di tutto e è un aiuto veramente così come era nel progetto di Dio no? tra l'altro è molto bello che in una coppia si possa come dire realizzare la complementarietà no? l'amicizia tra un uomo e una donna è altamente fruttuosa perché si completa una vicenda non è un caso che tante volte nel corso della storia grandi operazioni sono state fatte da un uomo e da una donna insieme no? possiamo partire dai più recenti che mi vengono in mente ce ne sono sicuramente tanti altri e a quelli più antichi pensiamo per esempio all'opera del beato Bartolo Lungo e Pompei con chi l'ha fatto? l'ha fatto con la contessina che non mi ricordo come si chiamava che erano talmente stretti i loro rapporti e intimi in senso buono ovviamente non in senso che l'uno e tredicesimo a un certo punto gli dice sentire sposatevi perché la gente chiacchiera fate il matrimonio bianco il matrimonio giuseppino però mettiamo a tacere le voci unitevi in matrimonio così la famo finita perché la gente purtroppo non capisce che tra figli di Dio certamente con le dovute cautele e attenzioni ci può essere una purezza assoluta certamente che deve essere costruita ma pensiamo a Francesco e Chiara San Francesco e Santa Chiara Santa Teresa Davide e San Giovanni della Croce San Francesco di Sala e Santa Giovanna di Chantalla soltanto per fare qualche nome San Vincenzo dei Paoli e Santa Margherita come come si chiamava la fondatrice delle delle damme di San Vincenzo vabbè Santa Margherita di Marigliac forse dovrebbe essere ogni tanto la memoria mi vacilla un po' ci sono state tantissime volte quindi l'amicizia è una cosa meravigliosa siccome l'amicizia tra un uomo e una donna è sempre un pochino difficile perché Santa Teresa scherzava l'amicizia tra un uomo e una donna sì ma io sto dietro al muro di cemento armato quindi Giovanni può venire quando vuole tanto stiamo a un metro di distanza però tra Marigliac e moglie dovrebbe essere una cosa possibile so bene che purtroppo è una cosa molto molto rara ecco però che succede che quando rientrano quando Davide rientra tra uccisione del filiste escono le donne e cominciano a cantare con tamburelli e sistri e fanno questo canto Davide ha ucciso Saulo i suoi mille e Davide i suoi diecimila ecco qua Saulo fu molto irritato gli parvero cattivo quelle parole hanno dato a Davide diecimila a meno hanno dato i mille non gli manca che il regno da quel giorno in poi Saul guardava sospettoso Davide vedete il giorno dopo il cattivo spirito irruppe su Saul e si mise a fare il profeta in casa attenzione quindi si possono fare profezie anche in balia degli spiriti cattivi mi si permetta ecco di raccomandare sempre una grande prudenza con tutte con tutte quante le profezie innumerevoli che girano all'impazzata perché ci sono sicuramente quelle vere ma qualcuna sicuramente è falsa e bisogna non è sempre facile fare un buon discernimento Davide suonava la cedra come un giorno ma Saul tenera in mano la lancia impugna la lancia pensando in chiuderò Davide al muro ma Davide gli sfuggì per due volte e Saul a un certo punto vedete la sorte degli uomini riprovati e disperati cominciò a sentire timore di fronte a Davide perché il Signore era con lui mentre si era ritirato da Saul e qui a un certo punto Saul lo allontana da sé lo fa comandante di migliaia quindi ma che succede vedete più Saul cerca di danneggiare Davide Davide riusciva a aver 714 in tutte le sue imprese perché il Signore era con lui dove metteva le mani e Saul vedendo che riusciva proprio sempre aveva timore di lui allora a un certo punto che fa? gli propone di sposare la figlia poi chiudiamo e Saul Davide umile dice io divento il genere del re dice guarda Saul dice attraverso i ministri dice guarda te la dà la figlia però il prezzo non è la dote dice io sono poveraccio come faccio a sposare la figlia del re dice o alle 100 prepuzzi dei filistei perché si è fatta vendetta dei nemici del re Saul aveva pensato dice ora lo mando a prendere 100 prepuzzi dei filistei e l'ammazzano ma che succede Davide tutto contento gli piace questa condizione chiaramente va e gli riporta non 100 ma 200 prepuzzi e Saulo si accorge che il Signore era con Davide e che il suo figlio amava perché quelli con cui sta il Signore sono molto odiati ma sono anche molto amati e questo causa ancora maggiore rabbia invidia e odio da parte dei nemici di Dio e terminiamo così non Saulo ebbe ancora più paura nei riguardi di Davide e fu un nemico di Davide per tutti i suoi giorni figura in questo senso Davide del giusto perseguitato e figura anche delle sofferenze e delle persecuzioni che ha subito incessantemente durante la sua vita pubblica il nostro Signore Gesù Cristo ci fermiamo io pensavo di finire Davide con una puntata però penso che è bene procedere con calma ecco se ci mettiamo tre anni a fare le catechesi biblici sull'Antico Testamento pazienza non è il quanto e il tutto l'importante che la nostra anima cresca e sia nutrita Dio vi benedica e la Santa Vergine sempre vi protegga grazie a tutti grazie a tutti